Ok, Francesco, io ho due notizie su cui volevo centrare un po' la tradizione. Visto che poi c'è stato qualche parroco o qualche sacerdote che ha contribuito a far capire cosa è l'amore cristiano, vai pure dai. Sì, no, il problema è che ho due notizie che sono centrali, diciamo così, della settimana. La prima notizia, secondo me la più grossa, la più importante, diciamo, è che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sbloccato il procedimento penale intentato allo IOR da un gruppo di sopravvissuti dello sterminio della Jugoslavia. Con i consiglianti Pavlic del tesoro. Pavlic è ciò che fecero i francescani in Jugoslavia. Ho parecchie pagine anche del Gallo Cantò ancora. E praticamente la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sbloccato il procedimento. Cosa hanno fatto? I francescani hanno macellato centinaia di migliaia di persone, uomini, donne e bambini. I francescani, quelli del San Francesco, quelli che il Bertinotti va a farci la marcia della pace ad Assisi e dovrebbe vergognarsi, tanto perché c'erano con lui ma c'erano anche con tutti gli altri, è il primo nome che mi è venuto in mente, né più né meno. I francescani hanno macellato centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini per uno scopo preciso, distruggere gli ortodossi e imporre il cattolicesimo. Non so se vi rendo l'idea. Per imporre il cattolicesimo e distruggere gli ortodossi, i francescani hanno macellato centinaia di migliaia di uomini, donne e bambini. E Steypinach, uno dei vescovi del massacro, è stato fatto santo da Voitila. Cioè, fate un po' voi insomma il quadro che c'è. D'altronde la santità non è data dai comportamenti della persona, ma è data da tutte le azioni che la persona ha fatto a maggior gloria di Dio. Per cui se a maggior gloria del Dio dei cattolici vengono sterminati gli ortodossi che non hanno lo stesso Dio dei cattolici, è a maggior gloria del Dio dei cristiani, perché vi ricordo che un cristiano è costretto ad amare il suo nemico, ma non ad amare i nemici del suo Gesù. E siccome il suo Gesù è diverso da quello che è l'altro Gesù o l'altro Gesù ancora, è autorizzato a sterminarlo. Logica di cristiana, forse non ve l'hanno spiegata molto bene. C'è da aggiungere poi che sarebbe interessante andare a vedere l'attività, l'impegno dei francescani, prima che la guerra in Jugoslavia del 1991 scopiasse. Sarebbe simpatico andare a capire perché il caro Oltigua fece le nuove diocesi prima della spartizione della Jugoslavia, seguendo le attuali confine dei vari stati. Sarebbe appunto simpatico comprendere il perché certe apparizioni mariane, come quelle di Medjugorje, sono pilotate da ordini vicini a certi, non so se quelli di Medjugorje sono francescani. E sarebbe appunto da vedere lo scontro che è avvenuto nel 1991 durante la guerra tra questi vari ordini religiosi. Sì, in effetti Medjugorje fu un'operazione di disarticolazione dello Stato Jugoslavo. Lo Stato Jugoslavo non ne sapeva niente, non si è accorto di cosa stava succedendo. Gli altri sono sempre fessi, vero Francesco? Ricordatevi che la carità è il sistema dei cristiani per distruggere le società civili. Leggo dal Gallo Cantoncora Quel che avvenne nella Croazia indipendente, sotto gli amici tedeschi, italiani e croati di Pio XII, per il Vaticano valeva la pena che succedesse assolutamente. Erano permesse solo la religione islamica e cattolica. C'erano persino divisioni musulmani di SS con capellani maomettani. Mentre i fedeli ebrei e soprattutto ortodossi erano vittime di persecuzioni, quali cattolici non avevano mai subito in tutta la loro storia. Centinaia di chiese e monasteri ortodossi vennero saccheggiati e distrutti, di cui 172 nelle province di Lica, Cordum e Bania. Innumerevoli preti ortodossi vennero crudelmente sottoposti a tortura. Tre vescovi ortodossi, il vescovo Platone, il metropolita di Sarajevo Peter e il vescovo Sava vennero massacrati con varie centinaia di preti ortodossi. La popolazione serba doveva sottoscrivere di diventare cattolico-romana, dopodiché talvolta non veniva più disturbata, ma più spesso veniva comunque massacrata. Solo nel luglio del 1941 i cattolici croati in pochi giorni uccisero oltre 100.000 donne e bambini serbi nelle case, nelle scuole, nelle prigioni, nelle chiese ortodosse. La chiesa di Glina, ad esempio, secondo il racconto dell'Ustasha presente, Hilmia Berberovic, fu trasformata in un matatoio. Il baio di sangue durò dalle 10 di sera fino alle 4 del mattino e continuò per otto giorni. Gli uniformi dei macellai dovessero essere cambiate perché grondavano sangue. Dopo si trovavano bambini infilati negli spiedi, con le membra ancora spasmodeticamente contratte dal dolore. Tratto da Miller Dai pulpiti cattolici venivano spinti alla persecuzione dei serbi ortodossi e del loro sterminio. Si distinsero particolarmente i figli di San Francesco d'Assisi, i cui conventi da tempo servivano come depositi d'armi per gli Ustasha. Il francescano, Agostino Cevola, comparve per le strade con la pistola sotto la tonaca, invitando il popolo a partecipare agli assassini degli ortodossi. Un altro francescano, Miroslav Filipovic, Maestorovic, occupò il posto di boia nel campo di concentramento di Jasenovac, famigerato per le decapitazioni di massa. Vi perirono circa 120.000 serbi. Solo il francescano, Bzzzirka, in una notte, 29 agosto 1942, decapitò con una mannaia speciale 1360 persone. È documentato che ai Jasenovac e in altri campi degli Ustasha furono uccisi anche migliaia di serbi convertiti al cattolicesimo. Dopo il crollo del regime cattolico, significativamente, proprio i conventi francescani stranieri divennero luoghi di rifugio dei massacratori. In Austria, Klagenfurt, in Italia, Modena, ma anche in Francia. Tutti questi conventi nascosero gli Ustasha fuggiaschi. Dappertutto questi criminali trovavano aiuto e soccorso ecclesiastico ed era assai comprensibile perché le azioni degli Ustasha erano state azioni della Chiesa Cattolica. Questo è da Karl Dreschner. Bene, ora la Corte Suprema degli Stati Uniti ha sbloccato il procedimento intentato dalle Iore da un gruppo di sopravvissuti. Due pappi accusati di aver fatto fuggire criminali di guerra con i tesori degli Ustasha croati. Mi sembra che sia lì che il Vaticano è sotto processo. Sì, beh, c'è il discorso dell'oro croato che è finito lo Iore e che è rimasto nella disponibilità del Vaticano. E che poi ci ha fatto le varie operazioncine tipo Calvi, Sindona, eccetera, eccetera. Che poi, vi ricordo, che Ruini faceva parte di tutta l'organizzazione della P2 tutta l'organizzazione della massoneria P2 che non era la massoneria ma era la P2 e che aveva circa 160-170 cardinali iscritti all'interno del centro di potere. Vi ricordo Caos e la storia di Ruini edizione Caos è abbastanza interessante. Non l'ho ancora portato, ma un giorno... Sì, beh, ricordiamoci sempre che il discorso di Calvi stando a stime pubblicate dalle soli 24 ore lo Iore pagò 250 milioni di dollari all'ora per rimborsare le banche del patrocinio morale, del convincenzo morale dello Iore in quell'operazione. Mi sembra che il convincenzo morale sia stato molto consistente per pagare una cifra del genere. C'è un'altra notizia. Il 18 gennaio 2005 della Repubblica dice che il Vaticano nascorse gli Ustasci a Pavelice e i suoi ospitati nelle chiese. Ma questo già si sapeva, soltanto che le accuse adesso vengono direttamente da un ex agente USA che accusa il futuro Papa Paolo VI che aiutò i criminali di guerra croati. E tutto quello che è stato il massacro da Igoslavia è stato voluto e pianificato dal Vaticano. Come del resto io farei una rianalisi di quella che è la seconda guerra mondiale perché in realtà fu una guerra della Chiesa Cattolica contro il mondo. Da un lato gli ortodossi, dal lato per occupare questo, dal lato contro il comunismo, fu una vera e propria guerra. Cioè effettivamente bisogna cominciare a mettersi un po' in quest'ottica. Perché io ho letto anche alcuni scioglimenti di partiti cattolici prima dell'arrivo di Mussolini in Italia, prima dell'arrivo di Hitler, prima dell'arrivo di Franco, che era effettivamente un appoggio reale, insomma era una pianificazione voluta dal Vaticano. Beh, l'influenza, lo vediamo anche adesso, insomma l'influenza nella politica italiana fa capire che il Vaticano può disporre di coscienze, di persone, di poteri. Se noi prendiamo le massime cariche, esempio del Senato, della Repubblica, sono certo cariche istituzionali che però sui discorsi religiosi sono meschiarate, insomma, come in tanti altri campi. C'è appunto da pensare quello che può avvenire col discorso di lasciare libertà di disporre dei cittadini dello Stato da parte di cattolici, proprio perché rappresenta veramente un pericolo dell'integralismo. Anche perché l'integralismo si sta affermando in tutti i monoteismi e l'integralismo implica sempre nel trovare un nemico e di cercare di perseguitare i peccatori. E perseguitare i peccatori non per reati commessi, ma per peccati inventati, per cose fantasiose. E quando si devono poi colpire i peccatori, siccome la donazione è eterna, è giusto fargli anticipare qualcosa nella vita tramite le sofferenze, tramite l'inquisizione. E queste sono le prospettive, non dal Medioevo, ma le prospettive presenti, che tutte le forze politiche italiane cercano di mantenere. Se voi guardate uomini che teoricamente venivano da ambienti non clericali, che si dichiarano preoccupati di qualche venatura, di qualche assonanza anticlericale che ci possa essere. C'è stato un personaggio che vengono anche dalla realtà sindacale, che hanno detto che sono preoccupati del fatto che ci possa esistere qualche accenno anticlericale. Ma va bene, significa che se si genera questo è perché qualcuno comincia a rendersi conto del pericolo che rappresenta nella nostra società il discorso cristiano monoteista. Se noi teniamo conto le elezioni in Bolivia, al di là delle elezioni in se stesse, la persona eletta è una persona assolutamente non cattolica. Cioè, in un paese che era un paese dominato con una crudeltà, una ferocia del cattolicesimo da centinaia di anni cioè praticamente della conquista, è stato eletto uno che la prima cosa che ha fatto è quello di rendere omaggio alla terra, insomma di fare un antico rito di quelle popolazioni che non sono gli incas. Pertanto significa che si comincia proprio a riconoscere il fatto che il cattolicesimo e il cristianesimo in se stesso è la morte delle società è la distruzione dei sistemi sociali è la distruzione della psiche degli uomini e questo sta avanzando quello che succede in Spagna quello che è successo in Inghilterra quello che è successo nelle società civili francesi e nelle altre sono dei segnali di liberarsi proprio da quelli che sono gli anatemi di Ratzinger che poi Ratzinger vada fuori di testa perché si accorge che il gregio non può più controllare questo è un altro discorso. Sì no pensate appunto il problema cristiano c'è stato uno studioso che ha pubblicato un documento in lingua italiana che parla dice se l'Europa segue l'America tra le bacia di Gesù questo qua è sul Corriere della Sera ah ce l'ha sì 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 si dice mentre il vecchio continente diventa sempre più politico negli Stati Uniti le chiese reclamizzano la Bibbia e non diversamente dagli estremisti islamici predicano una rinascita spirituale ma l'onda di fede evangelica afferma lo storico Jan Buruna potrebbe contagiare l'Europa dice e di conseguenza dice sempre una sua dichiarazione sarebbe triste se a ridurre il gap tra l'Europa e l'Usa si pensasse chi non crede ancora negli ideali terreni del liberalismo ma chi spera che Gesù venga a prenderlo per condurlo diritto con sé in paradiso e poi soprattutto c'è un discorso di marketing nel senso che le persone cercano di controllare con il discorso religioso ogni cosa nella loro vita e questa presenza appunto cristiana nel pensare del Gesù non tanto in un Dio ma in Gesù che viene e ti risolve i problemi ti prende per mano ti porta direttamente in paradiso risolve i tuoi problemi è una cosa veramente preoccupante e giustamente questo attore dice che quelli che predicano la Bibbia che la sostengono che si fanno quei valori non hanno nulla di diverso dagli estremisti islamici ma noi l'abbiamo sempre detto il monoteismo è uguale in tutto e per tutto e non ha nessuna differenza che sia cristiano cattolico musulmano ebreo però se qualcuno dice che questa presenza del Gesù Cristo nella nostra vita è un pericolo effettivamente è un pericolo è un qualcosa che contamina qualsiasi cosa e che diventa un pericolo per gli altri proprio perché si parla di fanatismo e che cercano che sono privi di un ruolo nel mondo che cercano una identità nuova e pura e per coprire queste identità sono disposti a tutto soprattutto a chi dice che la loro identità è legata alla vita e non vogliono sottomersi a un Dio o a un Gesù buono perciò bisogna convincerli in ogni maniera e sicuramente i cristiani e tutti i musulmani tutti gli ebrei tutti i monoteisti hanno degli strumenti di convincizione molto forti ma che ci sia una tendenza al monoteismo è stata bella perché hanno pubblicato un'intervista a un irachene che si è sposato un marin l'irachene ha sposato il marin l'America troppa religione cioè una ragazza che è vissuta in un ambiente laico come Saddam Hussein si sposa un marin dell'esercito americano e dice che si trova male negli Stati Uniti perché perché in quel paese c'è troppa religione ecco fate un po' l'irachene ha sposato l'America troppa religione e dice che lei si sente meno libera di quanto pensassi dice che è un po' preoccupata perché la società è troppo conservatrice poco laica troppa importanza alla religione logicamente alla religione cristiana e dice logicamente cosa è successo nel mio paese nel mio paese i fondamentalisti cristiani hanno sostenuto una nuova classe politica che sono fanatici religiosi dice anche i nuovi capi iracheni sono dei fanatici religiosi e questi fanatici religiosi sono usati dal potere con l'aiuto dei fanatici religiosi occidentali e dice sempre questa donna che non è anti-americana perché si è sposata un marin però ho l'impressione che mi si voglia convertire mi rimproverano di non andare in chiesa va alla moschea no non sono praticante sono liberal e si ritrova il fatto stesso che appartenendo a una visione in cui lì si disse libera negli Stati Uniti la vogliono convertire e non è un terrorista è una donna che si è sposata a un marin e si trova a vivere negli Stati Uniti in una condizione di disagio perché c'è troppa religione è una questione di cultura gli Stati Uniti mancano di cultura mancano della cultura minima che hanno le persone i loro giornali fanno anche schifetto tutto sommato a parte il New York Times che però va bene fa anche il buio e il suo in ogni caso questa è una situazione a livello generale e esiste chiaramente uno scontro uno scontro che sta avvenendo fra le tensioni di libertà degli uomini e la chiesa cattolica però è uno scontro che è sempre stato in atto no? cioè noi abbiamo sempre avuto uno scontro del genere faccio un piccolo esempio Francesco per far capire storicamente come è avvenuto c'è io qui una nota di un piccolo articolo di Augas del venerdì della Repubblica del 20 gennaio 2006 e voi sapete che noi abbiamo parlato spesso della Costituzione sia Costituzione europea che i principi di libertà della Costituzione italiana e vi avevamo detto che quei principi non sono dei principi cristiani ma sono stati combattuti ferocemente dal cristianesimo e dalla chiesa cattolica bene in questo articoletto della mia babbella di Augas viene ricordato come alcuni principi della Costituzione che oggi sono in uso vennero applicati vennero messi in una Costituzione fatta nel 1849 quando Mazzini e Garibaldi occuparono Roma e per alcuni mesi riuscirono a tenere Roma dopo arrivarono i francesi con i fucili a retrocarica e fu un grandissimo casino perché neanche le barricate li hanno fermati comunque in quella Costituzione vi ricordo che per tre mesi per tre mesi furono al potere e colpisce soprattutto la portata anticipatrice della Costituzione che l'effimera Repubblica seppe darsi la più avanzata d'Europa che la metà dell'Ottocento abbia conosciuto avanzata al punto tale siamo vi ricordo la metà dell'Ottocento al punto tale che molti dei suoi principi a garanzia della libertà individuale un secolo dopo sono stati travasati quasi di peso nella Costituzione della Repubblica Italiana attenzione tra i tanti provvedimenti l'apertura delle porte del ghetto degli ebrei per cui la chiusura del ghetto e l'abolizione della pena di morte siamo nel 1849 bene più undicesimo ripreso il posto sul trono grazie ai francesi si affrettò ad abrogarli chiudendo di nuovo gli ebrei nel ghetto e ripristinando la pena di morte cioè praticamente la pena di morte era voluta dalla chiesa cattolica sul mandato dei Vangeli sul mandato del Gesù di Nazareth e siccome era mandato dal Gesù di Nazareth la chiesa cattolica non poteva abrogarla chiaramente quando dopo dei principi sociali dei principi etici superano questo la chiesa cattolica deve fare marcia indietro e vi ricordo che appunto che tutti quelli che sono i nostri principi della nostra carta costituzionale sono principi antitetici al cristianesimo cioè il nemico della carta costituzionale è il cristianesimo e con quello bisogna misurarsi Francesco l'ho detto l'ho detto l'ho detto l'ho detto no beh è giusto nel senso che il cristianesimo rappresenta un problema consistente come tutto il monotismo proprio perché va a domesticare va a danni a tale cose tutto quello che appunto noi diciamo documentiamo sosteniamo ricordiamo da dieci anni in questa trasmissione ci rende conto che il monotismo è il problema della nostra società del nostro momento che ha impostato le cose proprio sulla fede e sull'ignoranza che ha abituato le persone a non avere fiducia in se stesse a non essere capaci di essere tenti alle cose soprattutto ci ha abituato che si è capaci soltanto se si seguono certi dogmi e se si va a usare la propria intelligenza soltanto per cercare ereditare delle dimostrazioni teologiche delle cose che sono assurde invece se noi vivissimo in una società in un ambiente in una cultura in cui le energie delle persone venissero aiutate sostenute in cui si andasse a indirizzare i ragazzi verso qualcosa di diverso se si pensasse che esiste la capacità di intuire l'intuizione che noi diciamo sempre o l'istinto o l'ascoltare la propria capacità la cosa cambierebbe e questo ne voglio dare un esempio da un grande matematico che ha lasciato un'intervista che è il dimentore dei frattali gli fanno una domanda dice è vero che è rimasto alla scuola normale un solo giorno e lui rispondi sì perché c'ero entrato non aprendo la porta ma sfondandola l'esame di ammissione era incredibilmente difficile e i migliori studenti riuscivano a malapena terminando facendo dei calcoli terribili grazie alla mia intuizione io non feci nessun calcolo semplicemente vidi le risposte e una volta viste diedi dimostrazioni eleganti senza troppa fatica ma così facendo andai contro lo spirito benché non contro la lettera delle regole risultai primo ma mi accorsi di essere fuori posto come un barbaro che aveva sfondato le difese così decisi di andarmi cosa che molti non mi hanno mai perdonato cioè questo va a fare un esame nella scuola più difficile e lui pur non avendo studiato non ha bisogno di calcolare ma la sua intuizione gli permette di considerare la soluzione e non ha trovato la soluzione e la dimostra eppure per questo nella nostra società non viene coltivata l'intuizione e lui dice ha sviluppato dei calcoli incredibili e dice ma perché non si possono sviluppare dei calcoli incredibili perché mancano gli strumenti dice ma che cosa mancava per farlo la potenza dei computer dice fa assolutamente no era un fallimento del pensiero non del calcolo non si sapeva che domande farsi con un senso del computer mancava la visione sia in senso geometrico che in senso metaforico cioè la capacità di vedere le cose di percepirle e questo non è un filosofo questo è un matematico che vi parla di intuizione e che dice che non esistono cose complicate perché mancano strumenti ma perché soltanto non si ha la visione no ma guarda che io qui ho un articolo della Repubblica del 20 gennaio 2006 20 gennaio 2006 e si dice ricerca su scienze i concetti base appartengono alla natura umana il caso della tribù di Mundurubki la geometria non serve a studiarla negli indios d'america è innata cioè in realtà è anche logico se ci pensi cioè avendo organizzato la nostra vita in campo spaziale no cioè in un territorio in uno spazio è chiaro che noi abbiamo una visione geometrica delle cose degli oggetti è solo che non siamo abituati ad usare questa visione degli oggetti ma noi l'abbiamo naturalmente cioè come hanno fatto gli egiziani a inventarsi le piramide a costruire c'erano già una visione basta tirarla fuori come intuizione e poi applicarla praticamente comunque questo è uno studio che è stato fatto su una tribù amazonica dove si sono accorti che questi della geometria praticamente la trattano normalmente e hanno visioni intuitive della geometria per cui noi abbiamo le visioni intuitive del mondo solo che non siamo educati ad usarle si serve appunto perché il monoteismo c'è sempre il corso dell'insegnamento cioè il monoteismo dice sempre che i bambini sono dei peccatori hanno il peccato originale che si deve essere inculcata alla fede cioè quello che è strano è che nella nostra vita nella nostra civiltà dei bambini possono sorgere geni della musica possono sorgere geni in matematica come questo matematico ma non esistono mai dei geni che siano teologi cioè nel senso che nella nostra specie non riesce a produrre cioè riesce a produrre nella nostra specie esce un mozart tanto per dire nella musica e esce un matematico come Maldemort che inventa i frattali ma non c'è nessuno che sia teologo non nascono teologi come mai strana questa cosa che non nascono teologi passiamo ad un altro aspetto allora sapete che noi siamo pagani politisti cosa vuol dire vuol dire che le persone non sono degli oggetti di possesso ma sono dei soggetti di diritto tutta lì la differenza che non sono dei soggetti Grazie a tutti.